Sono preoccupati da anni, non vedono spiragli per il loro futuro, per una loro stabilizzazione. Sono i precari della scuola, quelli della Cigelle, che hanno organizzato un presidio davanti la prefettura a Campobasso e hanno incontrato il prefetto di Menna affinché si faccia portavoce della loro situazione al governo nazionale, ma si rivolgono anche alla regione e alle istituzioni locali. Noi ci siamo formati dopo tanti anni e non è che ci possiamo inventare qualcosa di nuovo, quindi aspetteremo dopo alcuni anni e in questo caso sono 12, che qualcosa si stabilizzasse, insomma, di non poter vivere, di evitare di vivere un momento di ansia tutti i giorni, ma tutti gli anni quando finisce l'anno scolastico e quindi il dubbio se si lavora l'anno prossimo o meno. Intanto l'età avanza, siamo arrivati all'età della pensione senza aspettandoci ancora di lavorare qualche giorno, qualche mese o qualche anno ancora. In molti sono precari i danni, con gravi ripercussioni economiche e familiari dovute all'incertezza. Non abbiamo più alcuna certezza, né tanto meno da parte delle istituzioni c'è interesse alla stabilizzazione di un esercito, di persone che comunque negli anni con professionalità hanno garantito un buon andamento della scuola pubblica. E né tanto meno si può pensare che sia possibile garantire l'andamento della scuola pubblica senza queste figure professionali. Ma i problemi della scuola pubblica molisana sono diversi e al prefetto sono stati illustrati uno ad uno. Le criticità che riguardano gli organici e le immissioni in ruolo con tagli continui, il rispetto delle norme sulla formazione delle classi, la sicurezza degli edifici scolastici e anche la dichiarazione del presidente della provincia di Campobasso De Matteis, il quale lamentava di non essere in grado di garantire i servizi essenziali alle scuole superiori per la riapertura di settembre. Abbiamo chiesto anche al prefetto di convocare un incontro, un tavolo interistituzionale alla presenza della regione e alla presenza delle altre sigle sindacali, onde verificare insieme se è possibile risolvere questi problemi. La richiesta è più importante però noi vogliamo che il prefetto la faccia presente al governo nazionale, ovvero sia sbloccare le immissioni in ruolo per i tanti precari che lavorano nelle scuole molisane. Il prefetto ha assicurato il suo impegno sulle richieste fatte e il 30 luglio ci sarà una nuova assemblea dei precari in CGL che hanno intenzione di incontrare anche la delegazione parlamentare molisana.